Buonasera a tutti, siamo qui allo stadio Enzo Ferrari di Castellammare di Stabia, Napoli, per assistere al finale della Riciclo League, per vedere chi avrà la meglio, se tra i bruti della squadra della Monnezza, guardate che brutte facce, oionesti riciclatori della squadra dell'alluminio, guardate che ciuffi onesti e che facce decise. L'alluminio è stanco di essere gettato via nell'indifferenziata, anziché essere riciclato. Basta essere ricordati sempre come la città dei rifiuti tossici, è tempo di cambiare. È tutto pronto per il calcio d'inizio. L'arbitro fischia, la partita è tutta da giocare. Il capitano Longobardi ha il possesso palla. Longobardi tira e... no, 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 ancora l'alluminio gettato nell'indifferenziata. Che dolore per la squadra avversaria, pensare che si potevano ottenere chissà quanti oggetti. Il capitano di Monne riesce a destreggiarsi, prova a tirare in porta e a riciclare e... goooool, 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 non c'è tempo da perdere, siamo alla fine. La squadra della Monnezza vuole a tutti i costi sporcare il pianeta e... no, che gioco disonesto, fallo sull'alluminio. Ma l'arbitro è deciso e nonostante i falsi scongiuri affida il calcio di rigore alla squadra dell'alluminio. Forza di capo, forza, adesso la sorte del riciclo è nelle tue mani. È lo scacco finale da dare al pianeta. Di capo aguarda l'avversario, la tensione aumenta, si prepara al tiro, goooool! L'abbiamo vinto, amici, abbiamo vinto! L'alluminio vinta per sempre, abbiamo vinto!